Con Wealth Insights nasce un nuovo modo di guardare al risparmio alla ricchezza delle famiglie italiane, mettendo assieme l'esperienza analitica e previsiva di Prometeia con l'indagine IPSOS sviluppata a partire dalle esigenze di banche, assicurazioni ed asset manager. Il fattore distintivo di Wealth Insights risiede proprio nella lettura integrata dei dati di mercato e dei risultati dell'indagine, per analizzare le scelte di investimento e di protezione delle famiglie e l'evoluzione delle politiche di offerta e dei modelli di business degli intermediari, costruire stime di domanda potenziale di prodotti e servizi ed elaborare previsioni di breve e medio periodo. Ma Wealth Insights non è solo questo, uno spazio importante dedicato a riflessioni sugli otopics di mercato in Italia e all'estero, dal Wealth Tech, le nuove metodologie al servizio della consulenza, ai nuovi modelli di consulenza e di gestione patrimoniale integrata, fino agli sviluppi della regolamentazione e ai suoi impatti sull'industria e alle tendenze dell'innovazione di prodotto. Wealth Insights si pone pertanto come un vero e proprio strumento di supporto per gli operatori dell'industria del risparmio, una chiave per capire il contesto di mercato e supportare le proprie scelte strategiche.